Il presidente della provincia di Pescara, Guerrino Testa, sarà il nuovo commissario per il porto di Pescara in sostituzione dell'architetto Adriano Goio che, nominato due mesi fa, rifiutò l'incarico ma che manterrà i poteri sul fiume Aterno Pescara e la competenza sul caso Bussi. La stessa provincia di Pescara sarà anche stazione appaltante per la ripresa e conclusione dei lavori di dragaggio del porto canale con la nomina di un responsabile unico del procedimento e di un direttore dei lavori e soprattutto con la collaborazione dell'Università dell'Aquila, già ora impegnata a supporto della protezione civile nel caso del terremoto. E quanto deciso quest'oggi nel corso del vertice svoltosi a Roma e terminato intorno alle ore 14 presso la sede della protezione civile preseduto dal capo del Dipartimento, Franco Gabrielli, con la partecipazione del sottosegretario all'Ambiente, Giampiero Catone. Oltre all'utilizzazione dei fondi già disponibili, stimati in 3 milioni di euro, sarà reperita una somma complessiva di 20 milioni di euro che consentirà la completa attuazione del dragaggio. Previsto dunque l'asporto di circa 200.000 metri cubi di sedimenti posti nei fondali ed il blocco degli attuali lavori con la rimozione delle attrezzature che rendono ancora più difficile l'attracco dei traghetti.